Si chiama Erasmus Plus Mind, è il nome del progetto europeo di cui sono stati protagonisti gli studenti e gli insegnanti del polo scolastico Trefano, insieme ad altri quattro paesi, tra cui Cipro, Germania, Irlanda e Svezia. L'iniziativa è stata promossa con l'obiettivo di realizzare un calendario e una guida per immigrati e locali, consentendo agli studenti di studiare le modalità di contatto e interazione che caratterizzano ogni paese anche in funzione della latitudine di appartenenza, attraverso differenti approcci, oltre alla cultura e la tradizione appartenenti ai flussi migratori. È un progetto al quale teniamo tantissimo, dura da tre anni, è iniziato nel 2016 e l'ultimo movimento transnazionale che prevede l'incontro in Svezia dei ragazzi sarà a febbraio dell'anno prossimo. È un progetto attraverso il quale ha portato i ragazzi a fare dei lavori sul territorio, cercando di leggere e conoscere i bisogni del proprio territorio e il modo in cui il territorio ha incluso o non incluso all'occorrenza gli stranieri, gli immigrati e poi negli incontri transnazionali i ragazzi delle varie nazionalità si sono confrontati per capire quali fossero le differenze all'interno del proprio territorio, del territorio nel quale vivevano. Quindi tutto questo ovviamente con l'utilizzo di una lingua veicolare che era l'inglese e quindi capite quale espressione culturale possa avere per i ragazzi un'esperienza di questo genere. A curare la veste grafica interna al calendario è stata la studentessa Elisa di Mnaku. Ho voluto rappresentare le citazioni di personaggi molto famosi come Nelson Mandela o Gandhi che appunto hanno fatto anche cose molto importanti nel sociale e per l'accomodamento delle persone e l'accoglienza o comunque per il razzismo. Gli studenti invece hanno contribuito a creare i contenuti della guida bilinguistica. Beh è una guida diciamo enorme per il contenuto e soprattutto perché è stata fatta completamente da noi ragazzi. Abbiamo inserito dei capitoli sia pratici nel senso magari come trovare gli amici sia magari soltanto di burocrazia come possono essere i diritti sia del trovare magari luoghi. Proprio è fatta una guida apposta per l'inclusione non tanto soltanto per entrare in un paese ma appunto anche per viverci.